Ciao astronomeri! Oggi voglio mostrarvi qualcosa davvero unico, un modo completamente diverso di esplorare il cielo. Se hai un montaggio equatoriale con almeno 50 kg di capacità pesante, come il EQ8, questa è la tua possibilità di arrivare alla radioastronomia usando un montaggio che già conosciamo. Conoscete la SPIDER 230C, il nostro telescopio di radiotelescopo di 2,3 m di diametro per un telescopio di radiotelescopo designato per lavorare con il tuo montaggio equatoriale. Quindi, perché abbiamo scelto un montaggio equatoriale per un telescopio di radiotelescopo? Perché vogliamo fare la radiotelescopo di radiotelescopo professionale più accessibile. molti astronomeri amatori già hanno un montaggio equatoriale per l'astrofotografia o l'observazione visibile. Quindi abbiamo scelto la SPIDER 230C per lavorare con una antenna speciale montata su una barra di los mentis, e un montaggio equatoriale che supporta almeno 50 kg e un pilota ASCOM. La prima grande avventura di questo design è che tutto il telescopio di radiotelescopo può essere installato su un tripod, anche se necessitano una grande una. Questo significa che non hai bisogno di mettere una basa concreta per una installazione permanente. Puoi installarlo nel campo, o anche nel vostro bambino. Ovviamente, come i montaggi equatoriali designati per telescopi optici non sono veri, dovresti installare il telescopio radiotelescopo all'interno o proteggirlo quando non in uso. Non può essere lasciato fuori nel regno o nel vento pesante. Vi faccio vedere ora come installare correttamente la antenna di 2.3 m della SPIDER 230C sul vostro montaggio equatoriale. Prima, posizionare il tripod sul vostro sito di installazione rotellamente al centro o al centro o al centro o al centro o al centro e assicurare che sia livellato. Poi, installare il modello di montaggio sul tripod al centro rotellamente al centro o al centro il polo celestial. Ricordate, la radioterapia di radioterapia di 1420 MHz non necessita di notte quindi dovresti fare un tipo di alimento polare durante il giorno. potresti necessario solo un compasso per esempio. Since the resolution of a compact radiotelescope is much lower than optical ones a high precision polar alignment isn't required for the SPIDER 230C a rough alignment is enough to get started. With the mount head secured and the counterweights already in place lift the assembled antenna and attach it to the Lossmandy style clamp on the mount. lock it securely using the locking screws. You will need the help of some friends. Now install the counterweights on the long dovetail bar. These balance the front heavy antenna. You might need to adjust the antenna position in the clamp to get it just right. Release the mount clutches and check that the antenna is balanced both in right ascension and declination. Now connect the RF cables from the antenna to the H142 Pro radio astronomy receiver in the control room. There your computer will run Radio Universe Pro the software we developed to control the spider radio telescope capture radio data and easily generate results. compared to our larger models the spider 300a and 500a mark 2 which use weatherproof altaz mounts fixed on concrete basis and 3 or 5 meter diameter antennas the spider 230c uses the same feed LNA unit receiver and software but with a smaller antenna and the equatorial mount. That also means the spider 230c isn't built for 24x7 remote operation. You need to store it indoors when not in use or provide extra protection from the elements. But the spider 230c offers something special. It's your gateway to the Radio Universe. A compact, affordable and versatile system that lets you begin exploring radio astronomy by using the mount you already own. Why not use your mount for radio astronomy during the day and for optical astronomy at night? And as usual for more content that will help you to explore the universe like a pro subscribe to our channel and clear skies! for more information! Thank you! Thank you!